ma vediamo che si riesce a fare ho messo che si riesca a fare qualcosa ma vediamo ho dovuto chiusare il coso cosa si può combinare vediamo un po' vediamo che prenda bene tanta legna è umida però non si sa come ma è umida insomma via la mano non l'ho persa dai penso un po' bello così non l'avevamo fatto via partiamo con i tegami tegami numero uno c'è da organizzarsi un po' forte qui ora magari se ci avevo apportato di vista il bordo graduato facciamo così ora si fa un bel brodetto con tutto il grassello del coso qui c'è bello caldo mi si mantiene bello caldo guarda oggi che briscola poi si prende questo pronto qui per fare la nostra zuppetta mettiamolo intanto questo guarda mettiamolo qui che bolle che intanto bolle questo qui mettiamolo qui dentro così guarda davanti a roba che abbiamo oggi tutta roba rimediata dalle razioni peperoni pizza cheese crackers che bolle che bolle che bolle balabelli investi questi qui sono perfetti questi qui sono perfetti quasi comodo ragazzi il fuocherello un lavoro di ghim fa veramente quasi comodo ci si gira guarda si fa si fa anche la la porcata della bevanda la porcata della bevanda di obono questa lì proveniente dalla razione inglese è questa guarda la bellezza di un'uscita semplice niente di che una passeggiata nel bosco che senza meta apparentemente senza senso poi uno si ferma casualmente monte gromigno era già stato fatto un fuoco si riutilizza un fuoco e col fuoco solo con l'accensione del fuoco ti si ti si risolve di obono l'uscita e poi devo dire che ha fatto freschino quindi un po' di fuoco mi dispiace neanche anzi bisogna che buona vai questo bolle ora fra un po' mi si arrovescia tutto questo bolle mettiamolo qua che si prepara la cosa la zuppetta io qui ragazzi farei così allora zuppetta zuppetta perché se no qui è finita la festa ah l'ustione sempre viva vai zuppettina a funghi con spec e te guarda bellezza che assume un'uscita ah buona potete capire io direi proprio un buon appetito un po' con questi occhiali da da veramente lasciamo perdere via terza volta che lo faccio ripartire il fuoco ma mia per nulla perché fa comodo perché è fresco porca la miseria qui noi continuiamo usufruire dei resti delle razioni tanto qui ho già pronto oggi si fa un bel esperimento cioccolato e caffè queste razioni inglese il biscottone no no via momento ciocco caffè vediamolo al salvietto perché se no ci si ostiona mi sa ma neanche più di tanto allora partenza cioccolata vediamo un po' se faccio del casino cioccolata e via andare guadabello guadabello comunque fuoco perfetto riacceso un paio di volte per per compagnia per scaldarsi direi direi eccezionale non si poteva penso chiedere di più da un'uscita simile ciaone belli a volte magari uno deve partire la mattina per un'uscita è svogliato una voglia mi prende un po' e poi si parte si fa il sentiero della tranquillità come lo chiamo io bello nel bosco poi si viene qui il grumino ti trovi il fuoco fatto di recente lo riutilizzi e vedi quel che viene fuoco salutoni di e